Carissimi amici, carissimi amiche, salve a tutti, buongiorno, buona settimana, buon lunedì, buon lunedì, è un bel lunedì oggi, pieno di sole a queste latitudini e vedremo questa settimana la cronaca, cosa ci porterà su questi casi che seguiamo con tanta assiduità come quello di Pierina Paganelli dove continua il silenzio della procura ma non deve continuare il nostro silenzio perché questo caso rischia l'oblio ed è un peccato perché non è che ci troviamo davanti a un mistero per cui è stata trovata morta una donna chissà dove senza alcun tipo di movente, senza alcun tipo di sospetto, senza alcun tipo di coinvolgimento, di niente di nessuno per cui è ovvio che una situazione del genere porti all'oblio, invece in questo caso qui noi ci troviamo davanti a un quadro molto complesso che però porta al cosiddetto condominio di via del ciclamino a Rimini e porta a questi quattro personaggi che all'inizio erano così uniti, parlavano con una sola voce, un solo legale, un solo consulente, adesso sono profondamente divisi, famiglie divise, ormai lacerate insomma fra di loro e mi riferisco quindi a Manuela, Loris, Luis e Valeria. Da loro gli inquirenti credo aspettino notizie, aspettino particolari, su di loro è puntata l'attenzione non solo dell'opinione pubblica credo io, è stato detto tanto e di tutto e di più su questo caso, facendo anche delle ipotesi più astruse, più strane, andando a scavare nella vita privata della vittima di Pierina Paganelli per vedere se ci fosse qualcosa di strano, nulla è stato trovato, si è andato a scavare nella vita privata di Giuliano, il marito di Manuela, per vedere se in relazione a quel famoso incidente molto grave nel quale poi lui è stato in coma per mesi, se vi fosse qualcosa nella vita privata di Giuliano di così grave e non è emerso nulla, nulla, se non un piccolo debito con l'agenzia delle entrate, quindi capirete che non è motivo per un odio particolare. Quindi stamattina, dato che non ci sono novità, volevo fare un breve riepilogo sugli elementi di stranezze diciamo in capo ai quattro, ecco molto sinteticamente insomma bene o male sospettati in qualche modo, anche se ad oggi non c'è nessun avviso di garanzia, quindi ovviamente parliamo solo di supposizioni, di ipotesi. E iniziamo da Manuela quella che sembra il personaggio più centrale di questa storia, non fosse altro perché era la nuova di Manuela con la quale negli ultimi tempi non aveva dei buoni rapporti, vi sapete per questo fatto dell'amante, le cose, quindi non aveva un rapporto buono con il marito Giuliano e quindi di conseguenza con la sua cera Pierina. Di Manuela che cosa possiamo notare? Possiamo notare la stranezza di, ad esempio, di quell'auto lasciata fuori la sera del giorno 3 di ottobre dicendo no perché avevamo paura del tesemoto, mia figlia aveva paura del tesemoto e poi non so se così fosse stato fatto anche per le altre sere, come pure la stessa auto portata in garage la mattina dicendo di non dover più uscire, ma poi si scopre che forse doveva uscire per andare a quella famosa riunione dai testimoni di Geova, forse doveva andare a prendere la figlia a scuola, forse doveva andare dallo stesso marito Giuliano dove diceva che il pomeriggio andava, quindi il fatto di dire io l'ho messo in garage perché non dovevo più uscire sembra un'anomalia. Poi l'altra stranezza sono quei soldi, quei duemila euro, almeno quelli dati a Lewis, perché a lui, perché non ad altri, si dice no perché per il fatto che mio fratello ad esempio non aveva la cassa forse rotta e come è possibile mettere una cifra non elevata in cassa forse, perché non tenerla le stesse in casa, dice no viene l'ufficiale giudiziario e si prende i soldi, ma perché sarebbe mai dovuto venire questo ufficiale giudiziario, forse per una piccola castella esattoriale. Poi altre stranezze di Emanuele sono il fatto del mancato riconoscimento della suocera, dell'iattesa, il fatto di non aver bussata alla sua posta, di non averla cercata, quel fatto di dire ho messo la bussa con i panni per Giuliano alla maniglia della posta dopo le 23 pensando che lei fosse in casa, quindi la mattina quando aveva visto ancora quella busta appesa alla maniglia della suocera di Pierina e sapendo quindi che stava ancora in casa perché non l'ha bussata. E poi c'è il fatto che lei doveva andare dagli anziani dei testimoni di Geova ad essere quasi giudicati in qualche modo e vedete per lei era qualcosa di importante perché sapete che se si viene allontanati dopo tanti anni da questo gruppo che diventa un po' la tua famiglia è come un po' essere isolati dal mondo. Quindi poi c'è questo allontanamento di fatto anche dal fratello, dalla casa, dalla famiglia e poi non si è mai chiarito un'altra stranezza del perché quella sera la figlia non fosse andata con la nonna alla riunione dove andava quasi sempre, si è detto non stava bene, non si sentiva bene, stava in bagno, stava in bagno e poi si scopre che in bagno dopo pranzo stava per lungo tempo non perché non si sentiva bene ma perché era attaccata alla linea wifi del vicino quindi dov'è la verità. ma anche Loris, Loris è un personaggio forse ancora con delle stranezze maggiori perché come si fa a non convenire che quell'invito a cena è comunque strano, lui non andava quasi mai e guarda caso quella sera e quella sua entrata per il garage molto sospetta perché lui dice non sono mai 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 passato per il garage, poi dopo tanto tempo dice sì forse solo quella volta sono passato perché mia sorella non stava a casa, però lui non ha bussato perché a casa c'era la nipote, perché non ha bussato a citofono come pure se doveva andare da Loris perché non ha bussato a citofono e quindi è passato per il garage senza che questo passaggio per il garage fosse stato necessario e quindi solo ed esclusivamente poi avvenuto guarda caso quel pomeriggio del giorno 3, allora ciò fa pensare di dire forse perché magari possono trovare qualche traccia, poi l'orario nel quale si è visto con Luis sembra non tornare perché lui dice è andato via alle 19, 19.10, lui si dice alle 19.30, qualcosa non torna sugli orari come pure la stranezza che lui si è scoperto aveva denunciato alla stessa Pierina agli anziani dei testimoni di Geova perché si era fatto un po' paladino anche difensore della sorella Manuela ed era rimasto anche molto offeso perché gli era stato riferito che Pierina lo aveva chiamato protettore della sorella nel termine più brutto, nell'accezione più brutta del termine. Quindi e poi come non ricordarci di quella famosa frase giustizia divina è stata fatta che vedete non sarebbe mai venuta alla luce se non fosse stata rivelata da Valeria quindi è Valeria che ha messo molto molto in difficoltà perché con Pierina così esanima e attesa esordire con una frase del genere dimostra quasi una forma di soddisfazione lui dice no ma io l'avevo detto a Luis per fare il feedback e poi l'aveva detto anche ad altri è vero che lo aveva detto ad altri questo non si sa a chi lo aveva detto è vero che chi può testimoniare altre persone lui dice l'ho detto ad altre persone a chi ci sono queste altre persone che testimoniano di aver avuto la stessa domanda ma poi che domanda è ma poi perché prima lo dici a Luis se era un tuo amico una persona sicuramente amica insospettabile perché gli vai a dire questo quindi c'era un sospetto su di lui è una frase così brutta brutta che parlare di feedback veramente sembra troppo poco poi lui ha prestato diciamo questa scusa a Manuele dicendo il fatto dei soldi io non li ho tenuti me li ha detto a me ho detto non li posso tenere perché ho la cassaforte brutta ma mi sembra concepibile che 2000 euro debbano essere tenuti a casa di altri in un altro paese in una cassaforte come se fossero diamanti mi sembra qualcosa fuori luogo anche questo come pure le stranezze di Loris sono anche quelle foto quelle foto che dovevano dovrebbero costituire un alibi che non lo sono perché sono delle 22 e 48 foto brutte foto di attesa esanime quasi nella stessa posizione della povere Pierina con la maglietta sudata con le mani sporsche ma non danno proprio come dire l'idea di foto fatte così in maniera rilassata e giocosa di attesa dopo dopo cena veramente non danno questa idea e poi il fatto che sia sparito letteralmente negli ultimi circa due mesi e sia sparito dopo essere crollato un po emotivamente in tv con un pianto è una cosa è una cosa che fa di questo personaggio veramente qualcosa di strano di strano che ovviamente parliamo di stranezze poi saranno gli inquirenti a a dire di più ma anche lui c'ha le sue stranezze Lewis c'ha le sue stranezze iniziando se vogliamo anche da quell'incidente del giorno prima il giorno 2 di ottobre che è un incidente anomalo anche secondo quello che dichiara proprio il proprietario dell'autovettura nella quale lui è andato a sbattere cioè lui veniva da dire è andato lui a sbattere su un'auto firma quindi ci sono degli elementi di stranezza perché poi si riconducono al fatto che è vero o non è vero che gli faceva male il ginocchio c'è una telecamera che lo riprende che cammina in maniera normale sembra quindi dubbi anche sulla sulla realtà di questo incidente poi sono fatti dei 2000 euro non si è mai capito lui dice glielo chiesti io poi glieli davo un po' alla volta per le spese ma a che titolo cioè a che titolo ma poi siamo sicuri che siano 2000 euro perché non siano di più quindi è anche lui è anche lui che dice poi a un certo punto che visto questa donna attesa che non aveva riconosciuto nemmeno lui va a bussare a tutte le porte per essere sicuro che tutte le persone anziane del condominio sessero bene ma guarda caso si sincera della che tutte le donne anziane sessero bene furché furché Pierina Paganelli cioè nessuno nemmeno lui bussa alla porta di Pierina ma veramente questa è una cosa incresciosa ecco poi altre stranezze sono quelle della sua discesa alle 19.30 giù per prendere come dice Valeria il cibo per il gatto però alle 19.30 c'è qualcuno non lo so questa è una testimonianza che non so se è stata verificata che qualcuno gli dice alle 19.30 si stava giù e stava parlando con questo amico di colore e c'era anche Manuela è vero non è vero gli inquirenti lo sapranno meglio di noi ma se fosse vero certamente la cosa sarebbe inquietante ecco poi anche per il fatto del ginocchio ci sta un'altra testimonianza di una signora che dice quella mattina ho visto scendere a piedi per le scale Lewis quindi non per l'ascensore quindi sempre per il fatto di questo ginocchio faceva male o non faceva male e quindi ci si interroga anche sulla vera natura di Lewis è quel carattere mite quel personaggio che a volte ha parlato in maniera molto mite per televisione oppure quello lì che quando il giornalista bussa alla sua porta lo minaccia dicendo guarda ma adesso esco e ti prendo a martellate a martellate quindi dobbiamo vedere le stranezze quella un po' meno strana di tutte che potrebbe essere strana al sospetto diciamo sì è Valeria anche se anche se le stranezze di Valeria sono collegate al fatto che dice io mi sono alzato dal divano alle 21.55 sono andato a letto però Lewis non è venuto con me è stato sul divano però sono sicuro che non è sceso quindi è un alibi non alibi che lei dà perché se Lewis fosse sceso siamo sicuri che lei non l'avrebbe sentito e poi dico nel momento in cui lei si fosse alzata non alle 21.55 ma mettiamo alle 22.15 che cosa sarebbe successo se doveva scendere Lewis non sarebbe più sceso quindi è un alibi non alibi che fornisce diciamo al marito però è anche vero che è quella che da questa storia in questa storia è meno coinvolta ed ha subito questo eh tradimento eh ed effettivamente non conosceva come ha reagito effettivamente credo non conoscesse di questo tradimento di questa storia quindi una donna molto delusa addolorata dell'ex amica eh Manuela e potrebbe potrebbe essere forse l'unica magari effettivamente eh a non a non sapere secondo queste che sono le ricostruzioni questi che sono i moventi che potrebbero aver spinto eh la mano di qualcuno di loro ma ovviamente rimaniamo nelle stranezze perché aspettiamo sempre che gli inquirenti ci diano delle risposte ecco adesso sappiamo che stanno ultimando insomma tutte queste perizie sui cellulari sugli agganci con i wifi quando si scende giù nel garage dove il wifi non prende per cui si stanno verificando tutte queste ipotesi sicuramente si stanno verificando e poi si deve procedere a degli accertamenti di peribili con incidenti probatori vediamo si aspetta senz'altro eh si aspetta se tanto senz'altro che gli inquirenti ci diano delle delle risposte non può essere che davanti a un quadro così articolato a dei dubbi così forti non ci sia nulla nemmeno uno straccio di avviso di garanzia oppure si possa dire guardate brancoliamo nel buio e non sappiamo nulla ma non non credo per tutto quello che si è detto per tutto quello che si è saputo quindi resto sempre fiducioso su questo caso qui e vi auguro una buona giornata e condividete il video con gli amici con le amiche su tutti i social e grazie sempre del vostro affetto con il quale mi seguite sempre più numerosi devo dire ecco quindi di nuovo grazie un abbraccio a tutti quanti voi